E' iniziata la distribuzione dei 275 pacchi alimentari raccolti dalla Onlus Amo dell'Amore dei Lions in collaborazione con i club Lucca Ost, Lucca Lemura, Garfagnana, Antiche Valli Lucchesi e Pescia. Come ogni anno i Lions hanno organizzato questa iniziativa per venire incontro durante le feste natalizie alle famiglie bisognose, individuate grazie alla collaborazione con la Caritas e le parrocchie del territorio. Grazie alla donazione di quest'anno è stato quindi possibile consegnare complessivamente ben 55 quintali di prodotti alimentari. Fortunatamente siamo riusciti a rimettere insieme questo service che nella zona è molto apprezzato in quanto ci sono tante famiglie che si trovano in difficoltà e riusciamo con questi pacchi almeno a dare un sorriso per Natale a 275 famiglie. Noi come Lions siamo molto attenti ai bisogni umanitari e questo del service che facciamo oggi qui ad Alto Pascio qui in provincia di Lucca è un service che ci onora e che facciamo non solo qui ma anche in tutta la Toscana e in tutta Italia. Quest'anno è stato firmato anche un protocollo italiano con il Banco Alimentare quindi dopo questo service avvenuto alla fine di novembre il 30 continuiamo sul territorio sempre vicini ai bisogni del territorio a soddisfare questi bisogni a favore di coloro che hanno più bisogno di noi. I cinque club sono da sempre impegnati con la Onlus Amo dell'Amore in questa raccolta di beneficenza per i pacchi alimentari che vanno appunto alle famiglie bisognose dei vari territori per portare un sorriso nel giorno di Natale e come zona noi siamo veramente contenti di questo service e continueremo a farlo con il supporto della Onlus e con l'aiuto della Fondazione della Cassa di Risparmio. Quello delle famiglie in difficoltà è un fenomeno che purtroppo fa registrare dati sempre più in aumento. Certamente le famiglie purtroppo bisognose sono in aumento. Lo vediamo tranquillamente dai centri di ascolto della Caritas frequentati oltre misura anche da italiani perché prima c'erano molti, molti estraeuropei, adesso invece sono frequentati anche da molti italiani purtroppo quindi significa che anche da noi molte famiglie si trovano in difficoltà. Alla raccolta hanno aderito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Conad oltre ovviamente ai 5 club del territorio.